Cosa veramente molto pazzesca Siete dovessero, domani arrivano e mi hanno piaciuto veramente tanto la storia di 416 e di seguito e vogliamo parlare di Tu chi vedresti come attrice protagonista per interpretare anche quello che aveva scoperto per tutti i tuoi per tutti i tuoi c'è Anna Lutoschi che è una bella cioè quando io vedo Anna Lutoschi e lei lì, ma però lo scoperta molto dopo, perché Reddy è vedendo la mia testa da centinaia di migliaia di anni quindi è nata con me quindi non esisteva una persona di riferimento e non ho preso non ho accoppiato da nessuno per il suo stato fisico per il suo carattere per le cose che fa cioè Reddy è proprio original per la Johanna però effettivamente questa questa modella la ricorda molto e la ricorda molto quindi potrebbe essere più concentrati delle lentigini si può fare e direi che è quasi è quasi perfetta e per quanto riguarda Shogun è ancora nato è bello è troppo bello è bello, è perfetto soprattutto con le caratteristiche si io nel momento in cui ho scritto di Sean ho detto se facciamo un sogno facciamolo bene e quindi è un grande sogno Sean perché è difficile travargli un difetto anche se in realtà gli difetti ne ha molti perché è un eroe molto problematico è uno che cioè alla lunga secondo me rompe un po' le scatole speravamo che il suo carattere abbia anche la ricorda di San Biacro si adesso infatti anche infatti se 436 è il romanzo di formazione di Reddy Thunder Plus Lightning è il romanzo di formazione di Sean che subisce insomma al grado una crescita